L'ennesima tegola si abbatte sulle casse già disastrate della provincia di Campobasso e della regione. Il Tar del Molise, infatti, con sentenza numero 46 del 2019, ha dato ragione a tre persone residenti in Abruzzo che avevano prodotto domanda per partecipare al concorso indetto dal dirigente della provincia per selezionare 20 unità, poi diventate 26, da utilizzare nei centri per l'impiego. Nel bando era espressamente indicato l'obbligo di residenza in uno dei comuni del Molise per poter partecipare al concorso e dunque le tre persone residenti in Abruzzo vennero escluse. I fatti risalgono ad alcuni anni addietro e precisamente al 12 maggio 2012, quando l'assessore al lavoro della provincia era Salvatore Micone, poi diventato consigliere regionale del 2013 e l'allora presidente Paolo Frattura gli affidò la delega per la gestione dei centri per l'impiego passati nel frattempo dalle province alla regione. I ricorrenti, con ricorsi separati, impugnarono davanti al presidente della Repubblica e al Tar il bando di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di istruttore direttivo categoria D1. Il Tar del Molise con una prima sentenza aveva dato ragione alla provincia, ma successivamente il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la procedura concorsuale proprio perché escludeva i residenti fuori regione. A seguire, il Tar del Molise ha accolto le istanze risarcitorie fondando il proprio ragionamento sulla circostanza del requisito di partecipazione alla selezione collegato alla residenza censurato perché contrario alla legge e ai principi costituzionali. La sentenza è rilevante ai fini della tutela dei lavoratori e spiega il nesso di casualità tra la condotta antigiuridica colposa e dolosa e il procurato pregiudizio degli aspiranti che hanno subito l'esclusione dal bando per via della mancanza del requisito di residenza. Inoltre, considerata la circostanza che i concorrenti erano solo 95 di cui 31 dichiarati non idoni e 15 ritirati o assenti dalla prova, la determinazione del risarcimento, scrivono i giudici del Tar, deve essere commisurata al grado di probabilità che il risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito. Peraltro, la notizia è finita sul Sole 24 Ore, su altri giornali e sulla rivista specializzata denominata Lente Pubblica. Al di là del danno erariale e del risarcimento, resta da capire come sia stato possibile che un dirigente abbia proposto un bando che non rispetta né la legge in vigore né i fondamentali principi costituzionali.